Musica Ben trovati con il TG Liss di Telebari. Due bollini rossi per il caldo previsti per oggi 22 giugno a Bari e Campobasso. E nessuno previsto per domenica 23. Emerge dal bollettino sulle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute sul sito. Il bolino rosso è considerato il massimo livello di rischio per tutta la popolazione e indica l'arrivo di ondate di calore con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo su persone a rischio come anziani e bambini. Anche quest'anno l'assessorato comunale al welfare ha predisposto un piano operativo aggiuntivo al frine di fronteggiare i disagi e le problematiche sociosanitarie legate alla stagione estiva con particolare riferimento alle persone anziane e in situazione di fragilità e solitudine. Un piano complessivo che prevede azioni sociali, interventi in emergenza, sostegno sociosanitario ma anche attività di prevenzione e monitoraggio. Il piano coinvolge oltre 50 realtà pubbliche e private, tra cui ASL, medici di base e 118. E adesso le altre notizie del TGDs. 16 furti di cavi di rame negli ultimi 50 giorni, in qualche caso anche per due volte nella stessa giornata con pesanti ripercussioni sulla circolazione ferroviaria e quanto denunciano da Ferrotramviaria che ha sottoposto la questione all'attenzione della Prefettura di Bari, della Questura, della Polizia Ferroviaria e anche della Regione Puglia. Tre dei furti si sono verificati negli ultimi tre giorni, l'ultimo ha riguardato gli impianti di segnalamento nella zona di Fesca a Bari. Resterà chiusa al traffico fino al 24 giugno con divieto di sosta a ambo i lati il tratto di via Omodeo compreso tra via Fanelli e via Salvemini. Il provvedimento si è reso necessario a causa della rottura di una condotta di acquedotto pugliese. L'installazione della relativa segnaletica di cantiere e il successivo ripristino dei luoghi a fine lavori sono in capo all'azienda affidataria degli interventi per conto di AQP. Torna la Maratona Digitale Digiton 2024. Fino al 30 giugno a mezzanotte sarà possibile candidare la propria start-up e provare ad entrare nella top 100 dei progetti digitali che si confronteranno nel corso della nona edizione della competizione in programma dal 5 al 7 settembre alle vecchie segherie di Biceglie per costruire il domani del settore tecnologico. Nasce il nuovo Bari Luigi De Laurentiis, dichiara è stato un anno faticoso, ho preso decisioni errate ma ci ho sempre messo la faccia. Il presidente del club bianco-rosso ha presentato il nuovo direttore sportivo Magalini, il vice di Cesare e il nuovo allenatore Moreno Longo. Tra bilanci e prospettive future, la presa di distanza dal padre Aurelio. Ha avuto uscite infelici quando entra nella mia sfera lavorativa fa danni. E adesso le notizie dall'area metropolitana e dalla regione. Fanno esplodere un bancomat con l'esplosivo per impossessarsi del denaro. Colpo nella notte a Ruvo di Puglia, nel mirino dei malviventi, lo sportello automatico di un istituto bancario su corso Giovanni Iatta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno avviato le indagini. In corso di quantificazione il bottino dell'assalto. Non si tratta del primo colpo simile avvenuto di recente nel barese. Soltanto pochi giorni fa un altro colpo messo a segno a Bitonto. La trentenne Rosy Varvara è morta in ospedale dopo dieci giorni di agonia in seguito alle ferite riportate per un incendio scoppiato proprio nella sua abitazione a Gravina. Rosy avrebbe riportato uscioni gravi sull'80% del corpo e le sue condizioni, nonostante l'intervento dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme, sono sembrate sin da subito disperate. Tentato omicidio è l'accusa a carico di un 32enne salentino arrestato dai carabinieri della stazione di Trepuzzi perché avrebbe accoltellato un uomo al culmine di una lite scoppiata per futili motivi. Il 32enne, stando a quanto emerso dalle indagini, avrebbe accoltellato il rivale, un bracciante agricolo poco più grande, prima all'addome e poi sul collo. L'ipotesi degli investigatori è stata valorata anche dalla testimonianza fornita dallo stesso bracciante ricoverato all'ospedale di Lecce. Il comune di Nardò, in provincia di Lecce, si è classificato secondo nella top 5 del 2024 delle località balneari italiane dove sventolano le 5 vele di Lega Ambiente e Touring Club italiano. Sono 21 i comuni turistici marini e 12 le località lacustri insegnite con l'importante vessillo e premiati a Roma in occasione della presentazione della guida Il mare più bello 2024. e con il Tg List è tutto, grazie per averci seguito, buon proseguimento.